Quest'anno è una Pasqua insanguinata, tante guerre, tante violenze, tante difficoltà anche nella nostra città. Eppure è il periodo più adatto per festeggiare la Pasqua, perché che cosa è se non il giorno in cui noi celebriamo come il Cristo calpesta ogni morte, come il Cristo sale sopra ogni croce e vince ogni situazione, ogni fallimento. Quindi esprimo un pensiero di ringraziamento e di gratitudine a tutti voi che affiancate l'umanità ferita, l'umanità fallita e li aiutate a coltivare la speranza, a non arrendersi nella vita. Ed esprimo un augurio a tutti quanti voi affinché la gioia, la vittoria del risorto, vi rafforzi nel bene che compiute e allo stesso tempo vi incoraggio a non arrendervi e non arrenderci mai. Cristo vince ogni morte. Buona Pasqua a tutti.